Ciao a tutti, segni di manipolazione a cui prestare attenzione. In questo video voglio spiegarti quali sono i segni di manipolazione a cui devi prestare attenzione, perché è importante che presta attenzione, diciamo, a tutti i segnali che possono essere segnali di persone che ti stanno manipolando. Allora, quali sono i segni a cui devi prestare attenzione? Per evitare di essere manipolata, appunto. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notte che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai scegliere, potrai partecipare ad apposite live mirati dove farmi delle domande alle quali darò delle risposte. Allora, quali sono i segni principali della manipolazione? Allora, sono persone che tu sai la verità e senti che ti dicono delle bugie, e quindi scoprire la menzogna è un segno di una persona che in qualche modo vuole mistificare la realtà e ti vuole manipolare. Un altro segno è le persone che dicono una cosa e ne fanno un'altra, quindi altro segnale forte di che ha a fare con la manipolazione. Chi ti vuole far sentire in colpa, chi va a stimolare i tuoi sensi di colpa, è anche un'altra persona che cerca appunto di farti sentire in colpa, è sempre una persona manipolativa. Questa è un'altra forma di manipolazione. Chi ti vuole rendere responsabile dei suoi stati d'animo, quindi chi appunto cerca di farti sentire in colpa attribuendoti delle cose che in realtà sono soltanto tue. Chi è competitivo nei tuoi confronti e vuole dimostrare a tutti i costi di essere migliore di te. Chi usa le tue debolezze contro di te è un'altra persona che ti manipola. Un manipolatore cercherà in tutti i modi di scoprire i tuoi punti deboli per usarli contro di te. Ecco, quindi questa è un'altra, è una tecnica di gaslighting che spesso i manipolatori usano, quindi è un altro segno molto importante. Ecco, questi sono i segnali principali che ti fanno capire che hai a che fare con un manipolatore e con una manipolazione. Se riconosci questi segnali, li eviti. Questa è la cosa fondamentale. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra delle... potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao!